Il Torino per un anno mi seguì in quel di Catania, poi siccome c'erano sempre dei buoni rapporti fra Torino e Catania, perché c'erano già anche diversi giocatori del Torino che giocavano in Catania, l'anno successivo fui acquistato del Torino e tornai e venni a Torino. Debutta a ottobre, a dicembre segna il suo primo gol contro il Milan ed è il protagonista assoluto della vittoria per 3-2 sulla Juventus nel derby di ritorno del 30 marzo 1975. Zaccarelli risolve un'altra situazione confusa regalando una vittoria all'ultimo respiro.